www.tele4.it Due argomenti da affrontare in velocità che poi si ricollegano chiaramente anche con l'emergenza epidemiologica. Il primo un po' più slegato riguarda la discarica abusiva di cui abbiamo parlato nel nostro telegiornale alla zona ex Gigi Grill di Opicina, stata messa sotto sequestro dai carabinieri, era già un luogo attenzionato dal comune di Trieste, Trieste prima fra l'altro la testata online ne aveva dedicato anche un articolo. Adesso scattano anche i primi rintracci di coloro i quali hanno depositato illegalmente calcinacci, oggetti di grandi dimensioni, materiale che risulta da lavori di edilizia. Ieri ho fatto un video in diretta usando anche qualche tono forte, ma perché veramente fanno arrabbiare certi concittadini quando abbiamo una serie di punti dove si possono andare a portare, a conferire situazioni problematiche indubbiamente, materassi o gomme degli automobili, e invece qualche nostro concittadino con nessun tipo di rispetto verso se stesso in primis, verso l'ambiente, verso il resto della città, li butta nel carso, in questo caso sulla ex statale 202, dove abbiamo questa proprietà che è stata vandalizzata purtroppo negli anni e è stata scambiata per discarica. Ma dentro ci sono andate anche delle ditte perché abbiamo trovato dei calcinacci, abbiamo trovato parti di carrozzerie di auto. Io ho fatto un video in diretta credo sei o sette mesi fa denunciando questa situazione, è intervenuta prima la Polizia Municipale, la stampa si è mossa e io devo ringraziare assolutamente i carabinieri di Opicina che hanno fatto un lavoro splendido perché hanno fatto degli appostamenti, delle indagini e sono risaliti intanto, io ho detto al primo o all'ultimo, vedete voi, al primo che andiamo in qualche maniera a inchiodare ed è l'ultimo praticamente che ha nelle scorse settimane abbandonato lì del materiale, sono risaliti anche grazie a una serie di etichette per cui queste persone avranno ovviamente d'ufficio la denuncia a parte dei carabinieri ma il comune ieri con i nostri dirigenti, con il dottor Leonardo e il dottor Mezzavilla si è già recatto dai carabinieri di Opicina per stendere poi la denuncia perché intendiamo andare avanti anche per i reati che non sono perseguibili d'ufficio e anche costituirsi poi parte civile perché queste sono cose che sono folli secondo me, ovviamente scaricare i calcinacci lì è gratis ma che costo ha per la comunità, per l'ambiente per cui ieri era arrabbiato e da una parte soddisfatto perché abbiamo preso i primi adesso posizioneremo dei New Jersey per evitare che arrivino altri mezzi che i carabinieri continuano a pattugliare, continuano a verificare e siamo convinti che ne prenderemo altri, intanto io con gli uffici ho già iniziato a predisporre quella che sarà poi la bonifica quando l'area sarà dissequestrata ecco infatti l'area è del comune di Trieste, secondo lei ci saranno tempi lunghi per il sequestro per poi andare a una pulizia che poi è diciamo il risultato che più si attendono e che sperano di poter vedere visto che presentarsi così come l'abbiamo visto nelle fotografie fa un po' male fa assolutamente male e dalle fotografie non si vede il peggio che è dietro, è veramente una cosa incredibile e io devo ringraziare tutti quelli che si sono mossi dal consiglio circoscrizionale, ai cittadini che hanno fatto diverse segnalazioni stavamo già seguendo con attenzione ed ovviamente non potevamo dire nulla perché i carabinieri stavano agendo ma io credo che loro continuino le indagini per cercare di risalire ad altri e più vecchi scaricatori abusivi e quando saranno finite insomma si potrà procedere a un dissequestro dell'area e la bonifica Assessore abbiamo una telefonata, sentiamola, buongiorno Buongiorno Gullotta, sono Diego Buongiorno, prego Buongiorno Io approfitto per ringraziare l'assessore Giorgi che si è occupato della discarica e questo insomma gliene fa merito assieme ai carabinieri che hanno svolto le indagini A profitto del rappresento dell'assessore rapidissimo per fare una segnalazione personale di un disservizio che questa mattina ho vissuto invece presso l'Este Energy ed era Sono brevissimo, per legge bisogna presentare ed è un obbligo contrattuale al fornitore di energia elettrica e di gas i dati catastali del proprio appartamento A differenza della Cegas, la porta di fronte, quella che si occupa del servizio acqua che ha preso in carico la mia documentazione, mi ha fornito ricevuta di consegna L'Este Energy ed era, quindi energia elettrica e gas, si rifiutano di, una volta preso in carico, si rifiutano di consegnare una ricevuta di avvenuta consegna Io di questo chiederò conto all'ufficio pubblica relazioni, lo trovo una cosa non decorosa, tra l'altro non rispettosa della legge E se qualche assessore del comune potesse intervenire sarebbe utile, anche se mi rendo conto che si tratta di una società privata Ma che interessa comunque la pubblica, il pubblico interesse generale, vi ringrazio e buona giornata Grazie, lei ha già detto bene, un po' si è trovata la risposta, nel senso che se rivolgendosi all'URP potrà magari avere già qualche chiarimento Però sicuramente l'assessore De Santis, alle partecipate Quanto ci manca, non dico la vecchia Acegat, ma perlomeno la vecchia Acegas E guardate, non è da buttarla in politica, però noi abbiamo svenduto un patrimonio della città Noi, governava il centro-sinistra il sindaco Illy che ha venduto e oggi ci troviamo ad avere una piccolissima partecipazione In un'azienda che era gigantesca, dove contiamo il zero punto, dove i rapporti per fortuna restano quelli della normale cortesia Anche con Acegas, dove anche come assessori abbiamo un numero di telefono dove anche quotidianamente andiamo a dare delle indicazioni Che anche i cittadini ci girano per cercare di fare piccoli interventi Quindi c'è la disponibilità da quella parte, però ci troviamo di fronte a un colosso che ben poco può essere legato alla città E ci manca tanto quella che era la nostra Acegas Mi ricollego poi invece anche a qualche modo il nostro titolo, ipotesi coprifuoco alle 22, chiusura barbiere palestre Fra le misure che si stanno già anticipando attraverso mezzi stampa e quotidiani nazionali Che stanno aprendo a questa possibilità, non vogliamo fare allarmismo Però è giusto capire quali sono le direzioni che vuole prendere il governo Comunque che potranno entrare in vigore in futuro Ripeto il condizionale è d'obbligo perché magari speriamo non succederà niente di tutto ciò Però anticipiamo questa possibilità C'è un tema che invece è già entrato a piedi uniti Un termine calcistico perché ci spostiamo allo sport in vigore Che è lo stop delle attività sportive amatoriali come il basket nel campetto La partita di calcio fra amici Il pallavolo nel campo attrezzato vicino a casa È tutto ciò che può essere di contatto e soprattutto di squadra Laddove si vanno a contare più persone in un determinato match C'è però, diciamo del calcio in questo caso, una situazione un po' ambigua Quella di un calcio a sette amatoriale che si ferma E un'altra parte del calcio a sette amatoriale che va avanti Allora qui devo svestire i panni d'assessore E mettere quelli di dirigente nazionale di MSP Italia Che è un ente di promozione sportiva del CONI Che a Trieste storicamente, diciamo, patrocinia Coorganizza e gestisce una parte del calcio amatoriale La ex Coppa Venezia Giulia, il Crise Cup e il torneo tergestino Non entro sul fatto che sia giusto o sbagliato Andare a interrompere una tipologia e una categoria di sport rispetto ad un'altra Perché ci vorrebbero dieci trasmissioni Oggettivamente quello che dicevi tu In merito alle preoccupazioni generiche sul nuovo ritorno del Covid-19 E' una cosa che fa pensare profondamente non soltanto ai fini sanitari Ma anche ai fini di quella che sarà una tenuta economica Rispetto a possibili nuove spettro di nuove chiusure Che vediamo soprattutto dalla stampa Perché noi insomma come amministratori abbiamo poche indicazioni reali sulla situazione Tornando sulla parte sportiva Il decreto, scritto malissimo, scritto veramente da chi sembra non abbia la più pallida idea Di tutta una serie di situazioni Però ad un certo punto è chiaro Vanno sospesi tutte le attività amatoriali A prescindere chi li organizza Se li organizza una ASD Associazione Sportiva Dilettantistica Seppur riconosciuta da un ente di promozione sportiva E quindi in questo caso Tergestino, Crese Cap, Venezia Giulia potrebbero giocare E' una forzatura che evidentemente non ci sentiamo di fare Bisogna in momenti così particolari e di difficoltà del paese Essere anche corretti e seri Se la frase è riportata e ben chiara Tutte le attività amatoriali vanno sospese Punto Continuano le attività di certe categorie che non sono amatoriali Perché le ASD non fanno sport amatoriale Allora noi abbiamo sospeso intanto questa settimana Quelli che sono il calcio ma anche le altre attività Che non sono legate ad attività di base Quindi giovanile sportiva ed agonistica Ma sono amatoriali Perché ci pareva corretto così Ci pareva corretto nei confronti Intanto del rispetto delle normative e della legge Che è la cosa principale Giuste o sbagliate che siano Ma ci pareva corretto nei confronti dei nostri atleti E dei nostri arbitri Perché vogliamo vedere con chiarezza Quelle che sono le indicazioni Di un DPCM fatto E qui torna a vestire la casacca Tra virgolette di politico Di forza Italia Di bassissimo livello di forza Italia Di un governo che non è capace nemmeno Di scrivere in italiano un decreto Che non soltanto sullo sport è poco chiaro Ma è assolutamente non chiaro Su quello che riguarda ad esempio Le chiusure dei locali pubblici Per cui non si usa la semplicità del linguaggio L'italiano è molto bello Si può trovare i modi di semplificare Anche i concetti da trasmettere Evidentemente la politica A prescindere da chi governa In questo caso secondo me Governano molto male Però non trasmette nemmeno La sicurezza e la chiarezza ai cittadini Per cui da questo punto di vista Voi sapete Mi avete seguito In questi mesi Ho cercato di non essere troppo polemico Soprattutto all'inizio Perché ci troviamo davanti A un grossissimo problema Questo della pandemia Anche qui Interventi giusti o sbagliati Saranno in una fase successiva Ad essere valutati e giudicati Però davvero Quando si deve In un momento così difficile Per il cittadino Fargli comprendere Cosa si può e cosa non si può fare Bisogna usare la semplicità Anche noi Nell'amministrazione comunale A volte siamo in difficoltà A capire cosa si può fare E cosa non si può fare Siamo pieni Fra virgolette Di soldi Per intervenire sul covid Ma non è che dicono Puoi utilizzarli Chiaramente per questo Questo e questo Lasciano delle interpretazioni Così particolari Ma questo fa parte Della follia burocratica Del nostro paese Che mettono in difficoltà Anche gli addetti ai lavori Allora Leggo una nota di servizio Che può essere utile Poi se non sbaglio Abbiamo una telefonata Allora Avviso dal comune di Trieste Per lavori di segnaletica Stradale orizzontali Si informa che Condizioni meteorologiche Permettendo Da lunedì 19 A venerdì 23 ottobre Con orario diurno Saranno svolti I lavori di manutenzione Alla segnaletica stradale Orizzontale Quindi quella a terra In Piazza Dalmazia Via Roma Via Val di Rivo Via San Spiridione Via Filzi Via Mazzini Via Imbriani Nelle vie limitrofe All'interno del Borgo Teresiano Opportuni indicazioni E segnalazioni Saranno poste In prossimità Delle zone di intervento Quindi andate a fare Prestate attenzione Qualora dovessero esserci Dei divieti E non rabbieve Se c'è qualche fila Perché ovviamente La segnaletica orizzontale È importantissima Fa seguito A una serie anche di interventi Poi di asfaltature E tutto Ed è utile Per i cittadini Per cui qualche disagio Però indubbiamente Poi le cose saranno Sicuramente migliori Sentiamo una telefonata Buon pomeriggio Buongiorno Sono in onda Sì prego Buongiorno Mi scusi Allora Mi presento Io mi chiamo Fabio Battellini Sì Sono ringrazio In attitudine di 4 Che mi dà Questo Grazie a lei Prego Di parlare Saluto L'assessore Giorgi Appunto Del quale Mi onoro Di essere amico Non ho un argomento Specifico Da trattare Ho ascoltato Quanto è stato detto Sino ora Ma il problema Evidentemente È quello Che sotto sotto Alleggiava Questo governo Secondo me Non parlo di politica Ma da un punto di vista Puramente tecnico Io sono stato anche Dirigente amministrativo Ho una certa pratica Questi di PCM Secondo me Non hanno nessun valore Dal punto di vista legale O si potrebbero fare Disquisizioni varie Questo è stato scritto A 30 facciate Non ci si capisce Praticamente nulla Se un cittadino Volesse Seguire veramente Quello che c'è scritto È impossibilità Tra farlo Figuriamoci I denti locali Le società sportive Eccetera Inoltre Non voglio usare Parole pesanti Assurdità Dei sei ospiti Al massimo In casa Ora Io ho letto E ho seguito attentamente Perché mi fa arrabbiare Questo Tutti gli assessori Molti assessori Di questa Ere Quella di questo Ministri Avevano voluto Un cerito A questa norma E all'ultimo istante Proprio il presidente Conte Perché È anche un giurista Si è reso conto Che non era possibile La mutata Prima che venisse Inserita in gazzetta In raccomandazione E non più in diritto Ora Tutto questo Resumendo Dico soltanto questo Concordo Con quanto detto I miei massimi Naturalmente Nei dettagli Con il senatore Giorgi Non faccio politica Assolutamente Ma dico Che in queste condizioni Col virus Con le cose Che vengono dette E non ci si capisce nulla Con Secondo me La non legittimità Di questi decreti Che non hanno Nessuna Valenza Dal punto di vista Amministrativo Perché Si parli finanziaria Come si parlava Ai tempi giusti Ma Da monti in poi Basta È finito tutto Ecco Io Non voglio Essere polemico Ringrazio ancora Tele4 Ringrazio Da Nico Giorgi Spero di non aver disturbato E ringrazio Per il vicevo in diretta Grazie ancora Grazie Grazie a lei Siamo qua apposta Quindi non disturba Giorgi Se vuole commentare Beh ma assolutamente Qui noi andiamo avanti A colpi di DPCM Che ovviamente Qualcuno contesta Purtroppo Al di là di quelle Che sono le validità O meno Del DPCM Sono scritti Talmente male Che seguono un po' Quella che è la logica In me Di un nostro paese Pazzo Per la burocrazia Ma una burocrazia Che fa male Che non è chiara Che manca di comunicazione E semplicità Nei confronti Dei cittadini Per cui Questo è un problema A prescindere dal covid Ma che in un momento Così difficile per tutti Viene accentuato E il cittadino Lo sente con ancora più Di difficoltà Non entro nemmeno Sulle sei persone in casa Perché allora io oggi Quando sono sceso Per venire qui Dall'ufficio di Piazza Unità Mi sono trovato vicino A 30 persone Quindi Questo è un viatico Che porta A un nuovo lockdown Ricordiamoci Che un nuovo lockdown Mette Noi eravamo già in ginocchio E abbiamo grossa difficoltà Di rialzarsi E questo riguarda La parte economica Qualcuno stava parlando Di possibilità di chiusura Di ulteriori Di locali Di barbieri Ma vuol dire Che questi non aprono più Non aprono più Intanto hanno dovuto Pagare in questo periodo I contributi Per i propri dipendenti Perché non è stato bloccato Nulla Fa ridere poi I famosi 500 euro A partita IVA Cioè Le misure fatte Da questo governo Nei confronti Degli imprenditori Sono ridicole Dall'altra parte Invece ci sono grossissimi Gruppi Che invece risparmiano Perché Guardate Lo smart working È un grossissimo risparmio Per grosse aziende Si parla di miliardi Di euro risparmiati In elettricità In riscaldamento In raffrescamento Per cui Come sempre Noi abbiamo Il normale cittadino Il piccolo imprenditore Messo in ginocchio E anche alle cose Anche alle cose piccole Ma che Tanto piccole È un impegno È un impegno fatto Triestina si è presentata Il termine La presentazione Per venire in conto Per il polemica Però il ponziano Il ferrini è stato chiuso Perché il ponziano È andato in un forte Difficoltà finanziaria Ha dovuto Ritirare la squadra Ma all'interno del ferrini Al di là del ponziano C'erano altre Società Che Che ci giocavano Ci giocava il campanelle Che in quel momento C'era anche il chiarbola Io ero presidente In quel momento Del campanelle Noi avevamo La prima squadra I uniores Gli allievi I giovanissimi E facevamo il centro estivo C'era il Fani Olimpia C'era il Montebello C'erano i ragazzini Del rugby Per cui Un'attività Comunque settimanale Io andai Dal sindaco Cosolini Come libero cittadino E presidente Di società sportiva Non ero nemmeno Consigliere comunale In quel momento Gli ho detto Ma tu chiudi il campo Queste società Sono disponibili A pagare il comune Per continuare a utilizzarlo Non buttateci fuori Perché chi lo gestisce Non lo gestisce più Allora il sindaco Mi disse Guarda 3-4 mesi Lo riapriamo Ecco La situazione è questa Bisogna prendere in mano Le situazioni Bisogna non abbandonare Gli spazi Per questo io do Negozi sfitti Che non hanno più Nessun tipo di legame O richiesta commerciale Alle associazioni Anche gratuitamente Perché va fatta La manutenzione ordinaria E va fatta una custodia E una visione diversa Che abbiamo evidentemente Di gestire la città Però Il Ferrini Ripartirà Sarà molto bello Poi la parte Dell'attuale piccolo parcheggio Dello Stadio Ferrini Dove ci sarà il campo a 7 Ma ci saranno Ma poi la storia triestina Non voglio portare via La bellezza A spiegare Ma ci sarà la foresteria Ci sarà un ristorante Ci saranno delle terrazze panoramiche Sarà un gran bel investimento Che legherà ancora di più Il presidente Biasina A Trieste Perché questa squadra Va riportata In categorie superiori Poi sogniamo la Serie A Che manca da tanti anni Grazie all'assessore Lorenzo Giorgi Per essere stato con noi Buono lavoro Arrivederci Grazie a voi Un saluto a tutti gli amici di Tele4 Ci fermiamo per la pubblicità E ritorniamo tra poco Nuovamente in diretta Grazie a tutti gli amici di